Infortuni sul lavoro, in Basilicata i dati sono confortanti. Nel periodo 2006-2009 si è avuto un calo del 4,4% e nel 2010 un'ulteriore riduzione di 0,6 punti percentuali. Il Presidente della Regione De Filippo e gli Assessori alla Salute Martorano e al Lavoro Mastro Simone nell'illustrare i dati alla Commissione Parlamentare d'inchiesta in visita a Potenza hanno evidenziato l'efficacia delle misure messe in campo. Già nel 2007, ha spiegato il Presidente De Filippo, la Regione Basilicata in anticipo rispetto alle ultime norme nazionali è intervenuta con una propria normativa che ha potenziato prevenzione, formazione e controlli prevedendo anche un fondo di assistenza alle famiglie colpite da incidenti mortali. Il rischio attuale, ha però sottolineato De Filippo, è che i tagli che interessano in particolare la spesa sanitaria portino ad abbassare l'attenzione su questo fronte. L'Assessore Martorano, che coordina il Comitato Regionale di Coordinamento contro gli infortuni sul lavoro ha parlato degli screening annuali rivolti ai lavoratori delle imprese per individuare ed eventualmente contrastare in fase precoce l'insorgenza di malattie. Molte anche le attività di formazione e informazione, che ha detto l'Assessore Mastro Simone hanno interessato 700 imprese e oltre 5.000 lavoratori.